Ha avuto una meteo che ha proseguito il suo cammino fino a un terzo posto, quindi anche lì non mi passa nel podio, ma è salito sul podio. Quest'anno si conoscono e il sorteggio ha voluto rimetterli una davanti all'altra. Vi chiedo un applauso per questa ultima patto di notte nel finale. Ecco, questo è un po' di caruso! 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 Guarda Manu e Caruso il tifo c'è, lo voglio, voglio lo stesso tifo anche il vereppo. Manu guardami, sei pronto? 3, 2, 1, GO! Partito! 2, 2, 1, GO! 3, 2, 1, GO! Ci arriviamo verso le specialità della casa. Forza Manu! Forza Manu! Forza Tizona, 20 secondi! Forza Manu! Forza Manu! Forza Manu! Barbarino! 4, 2, 1, GO! 5, 4, 3, 2, 1, GO! Ok! Ok! Provi silenzio! Are you ready? Ok! 3, 2, 1, GO! Come and go and go! Come and go! Come and go! Come and go! bene, sciogli one arm, front, lever, pull ecco il secondo 30 secondi andiamo entro, stabilizza il ritmo fine eccoli, risposta, porta e risposta tutti gli stessi elementi 10, 5, 4, 3, 2, 1, score!